Ciao ragazzi, siamo finalmente tornati con un nuovo video. In questo video vogliamo mostrare i risultati finali e fare qualche considerazione su questo progetto. Ma prima dobbiamo dire un grande grazie a voi che ci ha pushato ad andare e a PCBWay per sponsorare i nostri esperimenti elettronici. Per finalizzare il progetto abbiamo aggiunto un fan di calma per avere controllo sul luogo di temperatura. Per questo abbiamo dovuto considerare due problemi. Il fan, che normalmente è fatto di plastica, non potrebbe toccare direttamente la città di calma del luogo. E per la stessa ragione abbiamo dovuto evitare che il luogo di calma nella città di calma del luogo di calma potrebbe riuscire al fan. Per evitare il primo problema abbiamo costruito una struttura alluminio come questa. Non sappiamo come calma questa struttura. Se avete alcune suggestioni, diciamoci nei commenti. Potremmo sia un luogo? In ogni modo, abbiamo isolato la struttura dall'uogo con una struttura fina di temperatura di silicone. Per risolvere il secondo problema, abbiamo riduzionato la storia dell'uogo per avere meno l'acqua di calma. E abbiamo fatto una sorta di calma con la stessa struttura di silicone. Ma, se non abbiamo un luogo di calma, abbiamo dovuto usare un fan di 5V e, in questo modo, abbiamo verificato che la struttura di silicone non si apreva. L'acqua di calma con il metallo. Poi abbiamo deciso di ridurre questa struttura di silicone. E abbiamo deciso di sempre applicare un PwM minimo al fan per creare una pressione positiva e evitare la calma di calma di calma. Questo potrebbe diminuire l'acqua di calma di calma, ma abbiamo mantenuto la rotazione del fan a un minimo e sembra che l'effetto sull'acqua di calma non è davvero apprezzabile. Anche, assemblare questa parte dell'uogo non era facile e avevamo molti problemi. Dobbiamo scegliere chiaramente dove mettere l'acqua di calma di calma di calma. Dobbiamo scegliere una zona con una superficie flat e, al stesso tempo, chiamavamo le elettroniche di calma di calma di calma di calma di calma che era già presente nell'uogo. Come potete osservare, abbiamo aggiunto l'acqua di calma 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 di calma, ma, fortunatamente, c'è un po' di spazio tra l'altro. Con un'uogo diverso, potete avere lo stesso tipo di problemi. Inoltre, con questa nuova struttura abbiamo fatto alcuni testi per giocare con le impostazioni di calma, e sembra che la struttura sceglie e è possibile seguire il target di temperatura con una tolleranza di più o meno 3 gradi di calma. Ma, usando un altro senso o come proba, abbiamo capito che abbiamo aggiunto una spazio in temperatura a proposito del punto che stavamo messerando. E rilassiamo questo con le gradi di temperatura a causa della grande città dell'uogo e della insolazione non perfetta. Quindi, il profilo di temperatura effettivo anche dipende da dove il luogo è posato nell'uogo. alla fine, abbiamo fatto un po' per posizionare la temperatura nella città di calma. Dopodiché abbiamo già posizionato e collegato le elettroniche, il luogo e il luogo, abbiamo potuto cercare l'uogo con l'uogo esterno. Abbiamo dovuto fare una grida di ventilazione per il luogo del luogo per essere capiti a scegliere il luogo fresco. e abbiamo anche dovuto cercare tutti i luoghi con il luogo di temperatura rosso. Come tocco finale, abbiamo fatto una scuola per il luogo di controllo. Questa scuola è composta di due parti, una che è il caso reale del luogo e un'altra parte che è il link tra l'uogo e il luogo. Questa parte parte potrebbe essere cambiata per un luogo differente. Il nostro luogo è ora portato dal luogo del luogo di controllo verde provato in un po' di tempo da PCBWay. Abbiamo piaciuto questo colore molto e abbiamo visto che PCBWay offre diverse colori e vogliamo cercare l'uomo. Ah, e abbiamo anche fixato tutti i bagni precedenti. Annalizzando i risultati e il lavoro che questo progetto ha necessario siamo arrivati alla conclusione che magari è meglio sfruttare un po' di più. Ma quali sono i principali problemi di questo tipo di preparazione? Uno dei problemi principali è che la scuola del luogo è abbastanza grande da quello che è necessario. Questo fa un gradiente efficiente e un gradiente di temperatura di più. Per evitare questo noi, come altri, proviamo a insulare la scuola ma la struttura del luogo sicuramente la struttura dell'elettronica nella propria struttura. Quindi, perché non facciamo un passo più più lungo come preparatori? Che cosa per una struttura customica? Abbiamo trovato alcuni piccoli punti che abbiamo linkato sotto nella descrizione. E stiamo pensando sulle nostre soluzioni magari usando la stessa soluzione che abbiamo usato per il nostro DAT. Abbiamo aprenduto molto da questo progetto e siamo felici di partire con te. Se vuoi parlare e raccontarci qualcosa di questo lasciate un commento. E se vuoi, abbiate, clicca la bellissima. Ciao! 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 Ciao!